Non ero sempre così brava. Ho dovuto imparare molto. Ho dovuto fare pratica. Pratica! E ancora più pratica. Fino a che un giorno, il mio sogno si realizzò. Di sicuro non è stato facile. Ma ne è valsa la pena. E ancora più pratica. Quasi un giorno, il mio sogno si realizzò. Grazie a tutti.